L'ospedale di Fano torna covid free, pazienti trasferiti al San Salvatore e Galantana. In tempo di covid una bambina nasce al pronto soccorso di Pesaro. Regione Marche, Acquaroli non intende riaprire le scuole prima di gennaio. Arrivano i saturimetri del comune di Pesaro soddisfatte le 3000 richieste. Mercoledì 2 dicembre, buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale sul canale 633 del Digitale Terrestre, in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Apertura di questo telegiornale dedicato all'ospedale Santa Croce di Fano, che da questo pomeriggio è tornato covid free. Poche ore fa il focolaio che si era sviluppato nelle unità operative di medicina e gastroenterologia è stato infatti dichiarato definitivamente sotto controllo, con i pazienti risultati negativi che sono stati dimessi e quelli ancora positivi che sono stati trasferiti all'ospedale San Salvatore di Pesaro e al presidio sanitario di Galantara. E dunque viene domato questo preoccupante focolaio in una giornata che a livello regionale continua a registrare numeri stazionari nei contagi da coronavirus. 421 i casi positivi comunicati oggi dal servizio sanitario regionale su 1.599 nuove diagnosi per un totale di 3.180 tamponi effettuati. Nella provincia di Pesaro Urbino risalgono leggermente i contagi. Oggi se ne sono contati 108, cioè 15 in più rispetto a ieri. Stabile il dato dei ricoveri nelle Marche, 650 di cui 85 in terapia intensiva. Intanto, mentre siamo costantemente costretti a comunicarvi e fornirvi ogni giorno in modo puntuale i report sui contagi e sui ricoveri dovuti proprio al coronavirus, questa mattina c'è stato il lieto fuori programma di una nascita di una bambina all'ospedale San Salvatore di Pesaro, nonostante il regime di covid. Fiocco rosa all'ospedale San Salvatore. Un lieto evento che sarebbe stato quotidiano, ripetuto e sistematico fino a dieci mesi fa. Non è più così al nosocomio pesarese che dalla primavera scorsa è blindato in regime di soli pazienti covid. E allora un fiocco rosa diventa un felice, quanto inatteso, imprevisto, alla regolare prassi ospedaliera. Questa mattina infatti alle 6.20 è nata Matilde, secondo genita di due genitori pesaresi Filippo ed Erika. È nata a Pesaro dopo che nei piani doveva nascere a Rimini e dopo che ieri c'erano state le prime avvisaglie di parto imminente. Ma il ricovero all'ospedale Romagnolo è stato breve. Secondo i medici di Rimini i tempi non erano così maturi per protrarre oltre l'adegenza. La mamma Erika è dunque tornata a casa con il programma di ripresentarsi all'ospedale di Rimini questo pomeriggio. Ma Rimini non c'è più tornata. Nella notte sono arrivate le contrazioni forti, ripetute e inequivocabili. Matilde aveva deciso che era ora di nascere subito, in barba a procedure o protocolli covid. I due genitori, alle 5.30 di questa mattina, si sono dunque catapultati fuori di casa decidendo di andare al pronto soccorso di Pesaro dove, meno di un'ora dopo, è nata Matilde. Nata al pronto soccorso e non nei reparti di ostetricia o ginecologia che dal lockdown in poi sono stati traslocati a Fano. Dopo il parto al pronto soccorso pesarese, anche mamma e figlia, in buone condizioni di salute, sono state trasferite al Santa Croce per completare l'adegenza postparto. Insomma, al tempo del covid c'è ancora qualcuno che nasce a Pesaro. Finora i casi del 2020 si contano sulle dita di una mano e dall'estate in poi è capitato per lo più a mamme che avevano contratto la positività al virus. Non è stata così per Erika né per Matilde, una delle poche classe 2020 che potrà esibire la scritta nata a Pesaro sulla carta d'identità. E continuiamo ancora a parlare di sanità che in questo caso si interseca con la politica. Nella prossima intervista, infatti, l'assessore regionale all'edilizia pubblica Stefano Aguzzi ribadisce la sua contrarietà all'ospedale unico provinciale attraverso lo strumento del project financing. Ho condiviso la mia visione personale sulla sanità nella provincia di Pesaro e Urbino con il direttivo provinciale di Forza Italia perché credo che insieme come partito dobbiamo prendere una posizione ben definita. Noi diciamo quindi, così come del resto abbiamo deciso in consiglio regionale, no ad un unico ospedale tramite un project financing. Perché? Perché se andassimo avanti con questo tipo di iniziativa noi ipotecheremmo per i prossimi dieci anni tutte le risorse finanziarie che la regione Marche può, diciamo così, indirizzare verso la provincia di Pesaro. Di fatto realizzeremmo un'unica struttura e spoglieremmo quasi tutto il resto del territorio da quelli che sono i servizi essenziali e necessari. Conseguentemente noi potremmo benissimo mantenere sulla provincia di Pesaro i 104 milioni che sono previsti dal Ministero per il nuovo ospedale. ma non tramite un project financing, bensì tramite un bando regionale, progetto regionale per una realizzazione di una struttura ospedaliera più moderna su Pesaro, quindi su Muraglia. Nello stesso momento una struttura non più da 600 posti, bensì da massimo 400, che possa garantire in qualche modo la redistribuzione sul resto del territorio di quelle che sono le attività necessarie per garantire una sanità più vicina ai cittadini e una prevenzione più efficace come del resto in questo momento di Covid si sta dimostrando che sia una vera e propria esigenza e necessità. Voglio anche ribadire una cosa, quando si parlava di un unico ospedale a Marche Nord si istituì appunto l'azienda ospedaliera. Se oggi viene a cadere il fatto di un'unica sede ospedaliera tra Fano e Pesaro, ma bensì si punta a mantenere entrambi i presidi, non è più neanche un dogma, una necessità quella di mantenere due strutture, cioè l'Asor provinciale e l'azienda ospedaliera a Marche Nord. Potremmo anche pensare in prospettiva di superare queste due entità e come nelle altre province mantenere un'unica entità organizzativa in modo da snellire ulteriormente e rendere più efficace di prospettiva anche gli interventi sul fronte sanitario. Questa è un'iniziativa che ho voluto condividere, ripeto, col Partito di Forza Italia, una posizione comune che possa dare in qualche modo un indirizzo univoco alle attività legate allo sviluppo dei servizi sanitari nella provincia di Pesaro Urbino, in accordo con l'amministrazione regionale di cui ovviamente faccio parte. Ed ora è il momento di parlare della trattativa in corso fra regioni e governo per il prossimo DPCM. Sono infatti diversi i punti di contrasto, a cominciare dal mondo scolastico. Il presidente della regione Marche ha infatti annunciato oggi che non intende aprire le scuole superiori prima di Natale. Punto di contrasto perché sul prossimo DPCM si sta ragionando su una possibile riapertura del 14 dicembre. Acquaroli ha evidenziato il grave problema di trasporto pubblico locale che la regione sta riorganizzando proprio per gennaio. Pronti alla consegna i saturimetri acquistati dal comune di Pesaro e destinati agli over 65 della città. Dal 6 dicembre i saturimetri saranno recapitati casa per casa. Come vi spieghiamo in questo prossimo servizio? Arrivano i saturimetri per 3.000 pesaresi di età superiore ai 65 anni. 3.000 erano stati promessi e non ci sarà nessun cittadino che verrà scontentato. Sono state infatti 2.944 le domande pervenute al comune di Pesaro che ha destinato 40.000 euro all'acquisto di 3.000 saturimetri come cifra residua dal milione di euro arrivato dal governo che ha riconosciuto Pesaro fra le città italiane più colpite dalla prima ondata di Covid. Milione di euro che il comune ha reinvestito in una massiccia operazione sociale fra bonus spesa, bonus bambini, sostegno alle imprese e ora prevenzione sanitaria alle fasce avanzate della cittadinanza. Non c'è stato overbooking. I saturimetri da domenica 6 dicembre saranno consegnati dai volontari di quartiere a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Famiglie che ora avranno in casa un prezioso strumento di monitoraggio all'ossigenazione del sangue. Il saturimetro è uno strumento piccolo che viene utilizzato proprio per vedere e verificare la saturazione dell'ossigeno all'interno del nostro organismo. È composto di un piccolo schermo dove vengono riportate sia l'ossigenazione del corpo e sia i battiti cardiaci. Quindi sono praticamente le due cose che vanno sempre di pari passo. Dopodiché si inserisce all'interno del piccolo strumento un dito e si aspetta praticamente qualche secondo e dopo qualche secondo abbiamo la risposta alla nostra richiesta praticamente. E questo sul visore si vede praticamente benissimo come si deve comportare. Diciamo che l'ossigenazione per essere perfetta deve essere dai 93 ai 99. Ed ora passiamo a parlare di economia. Nei nostri telegiornali vi abbiamo spesso raccontato le problematiche che stanno vivendo bar, ristoranti e pubblici servizi fortemente limitati dalla pandemia. Ma uno stato di sofferenza altrettanto grave è quello che stanno attraversando le industrie e le aziende manifatturiere di export completamente bloccate. Come ci ha spiegato in questa prossima intervista il segretario provinciale della CNA Moreno Bordoni. C'è tutta la parte dell'attività che regge gran parte dell'economia del nostro territorio da tantissimi anni. Quindi mi riferisco al manifatturiero, mi riferisco all'arredo mobile, mi riferisco alla metalmeccanica, alla moda. Tutte attività che ovviamente negli ultimi anni hanno dato dati positivi solo perché erano stati capaci nel tempo di internazionalizzare la propria attività economica. Quindi molti contratti con l'estero, molte opportunità in altri paesi che in questo momento di difficoltà tutte le fiere internazionali da qui alla metà del prossimo anno le più importanti sono state completamente cancellate in presenza. Qualcosa si farà con fiere online. Non c'è la possibilità di viaggiare. Consideriamo che se prima viaggiavano quattro aerei adesso ne viaggia uno su quattro rispetto a prima e non si può viaggiare così tranquillamente per lavoro perché ci sono situazioni di quarantena cautelativa, ci sono situazioni diverse nei vari paesi e in molti paesi non si può proprio entrare. Quindi grandissima difficoltà nel mantenere la propria clientela e di trovarne di nuova. E questo ci preoccupa tantissimo perché giustamente il turismo, il bar, la ristorazione tutti hanno in questo momento delle grandi perplessità ma davvero il cuore dell'economia del nostro territorio sta soffrendo perché se non riusciamo a sbloccare questa situazione sarà molto difficile nei prossimi mesi. Anche perché tutti sono andati in sofferenza nel 2020 ma questo quadro che ci propone mette già un grosso freno a mano sul 2021. Assolutamente sì perché auspicando che all'inizio dell'anno si possa davvero iniziare a distribuire il vaccino anche a livello internazionale i primi sei mesi comunque non permetteranno una mobilità completa. Si sta scommettendo sulle fiere all'estero in presenza per la seconda metà dell'anno ma è sempre una scommessa su una situazione positiva. Speriamo che questo possa avvenire perché altrimenti anche il 2021 sarà un anno molto difficile soprattutto per chi ha trainato con grande forza l'economia non soltanto della provincia di Pesurbino e della regione Marche in particolare ma del nostro paese in generale. Si è spento oggi all'ospedale di Padova dopo una lunga malattia a Claudio Lazzarini il più piccolo dei cinque fratelli Lazzarini che con Enzo, Eugenio, Giancarlo e Laura fondò nel 1970 la nota concessionaria motociclistica pesarese Fratelli Lazzarini tuttora attiva in città. Claudio Lazzarini era molto noto a Pesaro soprattutto fra i motociclisti. A Fano è invece venuto a mancare Armando Donini geologo di 61 anni morto ieri in seguito a un improvviso malore. Donini era conosciutissimo a Fano non solo per la sua professione di geologo ma anche per la sua passione musicale che coniugò con una lunga attività di disgioche fin dagli anni 70. Ed ora andiamo a parlare di un'operazione della polizia marittima della guardia costiera Chiamarotta ha riscontrato l'esistenza di diverse opere edilizie che erano state abusivamente realizzate sul pubblico demanio marittimo. Si tratta di una porzione di sala adibita ristorante, alcuni gazebo, recinzioni, basamenti in calcestrutto nonché una porzione di piscina che sconfinava nel territorio del demanio. È stato dunque disposto il sequestro preventivo delle strutture edilizie al quale hanno dato esecuzione gli uomini della guardia costiera. Il responsabile delle opere abusivamente realizzate è stato denunciato dall'autorità giudiziaria. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Vi ricordiamo sempre il numero di whatsapp per inviare foto, immagini oppure semplicemente messaggi di testo. Oggi parliamo di un abbandono di rifiuti che è stato riscontrato anche grazie all'intervento delle nostre telecamere. Un problema che però continua a ripetersi, come vi spieghiamo appunto in questo prossimo servizio. A distanza di tre settimane siamo tornati in strada Fornace-Vecchia. Questa carreggiata che come potete vedere alle mie spalle corre parallela all'autostrada A14 e in questo punto sotto un ponte a punto di autostrada si crea un sottopassaggio dove su segnalazioni di una nostra telespettatrice avevamo segnalato poche settimane e fa un ingiustificato abbandono di rifiuti. Ora siamo felici che grazie alla nostra segnalazione assieme a quella della telespettatrice che ha denunciato le autorità competenti sollecitando l'azienda di servizi di rimozione rifiuti per ripulire l'area siano spariti tutti gli scarti di lavorazione e rifiuti insacchettati che campeggiavano qui abbandonati da settimane. Il problema però è che rimuovere i rifiuti non rimuove il malcostume e l'inciviltà. Basta infatti spostarci di pochi metri e da qualche giorno si trovano materassi abbandonati, altri oggetti e rifiuti di vario genere che identificano come il problema non fosse tanto i ritardi nella rimozione dei rifiuti quanto un'inciviltà e un disprezzo dell'ambiente che sono dunque molto più difficili da debellare. Autunno è tempo di premi e riconoscimenti per la ristorazione italiana. In questo prossimo servizio andiamo a scoprire quali sono le massime eccellenze gastronomiche riconosciute nel nostro territorio. Autunno è tempo di premi e riconoscimenti per la ristorazione italiana. Celebrazioni che nelle marche registrano conferme ma non grandi novità. Secondo la guida Michelin, autentica bibbia dell'alta cucina, questo 2020 non ha prodotto nuove stelle in regione al di là delle eccellenze già note che incoronano Senigallia, capitale marchigiana del gusto più raffinato. Arte gastronomica che si eleva ai massimi livelli nelle tre stelle del ristorante Uliassi che si affaccia sul mare senigallese al pari della Madonnina del pescatore di Moreno Cedroni, altra eccellenza premiata da due stelle Michelin. Riconfermata la stella anche per il ristorante Andreina di Enrico Recanati a Loreto, così come Pesero luccica nella stella del ristorante Nostrano di Stefano Ciotti a due passi dal simbolo cittadino della palla di pomodoro. Quattro stelle Michelin marchigiane in tutto e si prova a scorgere la quinta e chissà che non tocchi prima o poi anche al ristorante pesarese lo scudiero dello chef Daniele Patti che in questo autunno è stato gratificato dal prestigioso riconoscimento delle due forchette del Gambero Rosso. Significa un riconoscimento fondamentale, un fondamentale per il proseguo per il futuro in questo momento di incertezza, noi garantiamo ancora la qualità e da sempre continueremo a garantirla. Un riconoscimento che abbiamo già da due anni che ci paragona con i più grandi ristoranti marchigiani e italiani, quindi un riconoscimento importantissimo che si allinea con quello della guida espresso dei due cappelli ricevuti l'anno passato. È un riconoscimento che si raggiunge con una qualità che non è mai una cosa scontata ma una cosa che va sia confermata e sulla quale bisogna lavorare immagino anche con sperimentazione e innovazioni. Sì, la qualità è fondamentale per qualsiasi mestiere, per qualsiasi tipologia di lavoro. Noi da sempre la utilizziamo, da sempre ci sperimentiamo a migliorarla e continuiamo, facciamo sempre ricerca per aumentare la qualità. Nella nostra cucina vogliamo trasmettere la nostra filosofia culinaria. Ci sono stati anche riconoscimenti delle stelle Michelin che rappresentano una ristrettissima cerchia per le marche. Non sappiamo se nello scudiero c'è anche questa aspirazione e nel caso cosa manca per arrivarci? Cosa manca non lo so, se no l'avremmo già fatto. Come tutti i grandi chef, come tutti quanti di chef, giocare il mondiale, giocare quel campionato sarebbe bellissimo. Noi ci stiamo provando con umiltà, stiamo provando soprattutto a far stare bene i nostri clienti e a lavorare bene e a fare un buon lavoro. E allora davvero complimenti a Daniele Patti. Adesso è il momento di vedere quello che ci aspetta su Rossini TV questa sera alle 21.15 dal Festival della Dottrina Sociale. c'è la presentazione dei gruppi DSC della Regione Marche, un nuovo progetto comunitario. E poi domani vi ricordiamo la puntata da non perdere con Insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Domani gli ospiti saranno Ariel Filloi, la guardia della VL, Mauro Procraccini che è allenatore anche opinionista e poi Marco Buttafava che è direttore commerciale i VM Chemicals. E queste sono anche le repliche. E in più domani alle 19 torna una nuova puntata di Generazione Silvere, programma voluto da 50 e più l'associazione che fa parte della Confcommercio Pesaro Urbino. Vi ricordiamo anche la possibilità di parlare o mandare messaggi al sindaco di Vallefoglia Palmiruchielli perché venerdì sarà in diretta su Rossini TV alle ore 20. Potete telefonare al consueto numero di WhatsApp che sarebbe quello relativo al Vallefoglia Magazine oppure contattare anche il numero fisso. Usate il WhatsApp per mandare messaggi che noi leggeremo proprio in diretta. Quindi seguiteci perché sarà l'occasione per poter fare le domande che volete fare appunto al sindaco ed avere una risposta immediata perché appunto saremo in diretta a partire dalle 20. Ho detto davvero tutto, vi auguro una buona serata, adesso vi lascio con il meteo. Domani invece ci ritroviamo alle 7.20 con la nostra rassegna stampa.